I siti finanziari dove leggere notizie di borsa attendibili, o quasi. Le notizie sul mondo della borsa e della finanza sul web si sprecano, siti finanziari che pullulano di notizie sul trading, mercati mondiali e tanto altro ancora. Siti di borsa che promettono arricchimenti immediati e tante illusioni, lo scopo di questi siti finanziari e cercare di fare chiarezza nella testa dell'aspirante trader o investitore, ma difficilmente aiutano realmente chi li segue. Consigli sulla borsa dati dai migliori investitori, broker che cercano di vendere corsi sul trading o abbonamenti alle loro piattaforme di analisi tecnica. Insomma, il mondo della finanza è davvero complesso, soprattutto sul web. Non seguo molto le notizie finanziarie, le società quotate, il mercato Forex e tutto il panorama finanziario, cerco di consultare i siti finanziari italiani lo stretto necessario. Quale sarebbe lo stretto necessario? Dipende da te, da che tipo di investitore sei e che notizie di borsa stai cercando. Oggi voglio parlarti di alcuni siti finanziari che possono tornarti utili operando in borsa. I siti finanziari dove leggere notizie di borsa I siti di borsa e finanza sono un agglomerato di notizie relative al mondo della borsa, del trading online e della nostra amata analisi tecnica. È difficile scegliere i migliori siti finanziari, spesso le notizie finanziarie principali vengono rimbalzate su tutti i portali e muoversi nel mondo della borsa non è mai semplice. In questo articolo voglio parlarti di quattro siti sulla finanza utili per i tuoi investimenti e dove puoi leggere notizie sui mercati finanziari in tempo reale. Quattro siti di borsa che possono tornarti utili con le loro notizie finanziarie. Questi sono i quattro siti finanziari che può tornarti utile consultare sul web, fammi sapere cosa ne pensi. Pubblicano quotidianamente notizie finanziarie più o meno importanti e dovrai decidere quali considerare o meno. Ecco la lista dei siti dove leggere notizie di borsa. Investing.com Il primo sito finanziario di cui voglio parlarti è il portale investing.com. È un sito di borsa e finanza ben strutturato dove leggere notizie finanziarie sulle maggiori borse mondiali e sulla finanza internazionale. Mi piace molto la sezione di analisi tecnica con grafici del prezzo in tempo reale, danno la possibilità di registrarsi e salvare le proprie analisi su azioni italiane, estere, il mercato Forex e tutti gli indici mondiali. Forse un po' troppa pubblicità di broker e qualche volta anche ingannevole ma d'altronde è un sito finanziario gratuito quindi dovrà pur guadagnare qualche soldino. Trend online. Un intero portale dedicato al mondo del trading che fa parte dei migliori siti finanziari italiani. Anche qui troviamo tante sezioni riguardanti l'analisi tecnica e spesso si leggono interessanti interviste dei migliori trader italiani. Pietro Pacello, Giovanni Lapidari, Gianvito D'Angelo sono alcuni dei trader che spesso rilasciano le loro visioni sui mercati finanziari. Interessante e ben fornita la sezione webinar. Hai la possibilità di seguire in diretta l'operatività di persone esperte che sanno come comportarsi sui mercati italiani e non solo, puoi anche interagire con loro se vuoi approfondire qualche notizia finanziaria più ne dettaglio. Sezione interessante anche quella dove pubblicano le notizie in tempo reale riguardanti i mercati finanziari. Borsa italiana. Il sito ufficiale delle Borsa italiana offre le quotazioni dei titoli in tempo reale, notizie sulla finanza, e tutta una serie di spiegazioni sugli strumenti finanziari presenti sul mercato. La sezione Borsa virtuale permette di aprire un conto di trading in demo per simulare l'operatività da investitore, non granché dal punto di vista dell'analisi tecnica ma sicuramente rientra tra i migliori siti finanziari italiani dove leggere notizie di borsa. Milano Finanza. Se sei un investitore non interessato all'analisi tecnica il sito finanziario di Milano Finanza può fare al caso tuo. È un sito di borsa dove trovi tante notizie finanziarie riguardanti il panorama mondiale e i possibili sviluppi macro-micro finanziari. Quali siti finanziari devi seguire per leggere notizie di borsa attendibili? Questa è una bella domanda, esistono tanti siti di borsa ma spesso sono confusionari e non offrono notizie finanziarie interessanti. I siti finanziari indipendenti non dovrebbero essere di parte nel giudicare gli scenari economici che succedono giorno dopo giorno, eppure spesso non è così. Analisti tecnici e trader indipendenti possono aiutare la tua visione dei mercati finanziari ma non possono garantire l'esattezza delle loro previsioni. Ti consiglio di studiare e cercare di focalizzarti solo sulle notizie finanziarie che possono intaccare la tua operatività da investitore, non credere mai ad una sola campana ma cerca di andare oltre il singolo giudizio e è un titolo da vendere, è un titolo da comprare. Io personalmente non seguo nessun tipo di notizia di borsa riguardante i miei trade adesso posso svelartelo, mi affido unicamente all'analisi grafica del prezzo e cerco di non farmi influenzare da giudizi altrui. E se mi sbaglio? Mi prendo uno stop loss e continuo con il mio trading. lista youtube chiまり chi Grazie per la visione!